Ogni giorno milioni di persone nelle nostre città utilizzano la propria macchina. Pochi si curano delle emissioni del proprio veicolo, anche perché sembra sempre di avere una parte piccolissima di responsabilità. Ma cosa accade se consideriamo tante persone che la pensano così? Auto, moto, camion? Le emissioni si sommano senza rimedio. Per aiutarti a capire qual è il tuo contributo concreto per un ambiente più vivibile, nasce l'applicazione Greens. Grazie a Greens puoi tenere sotto controllo ogni giorno il tuo impatto ambientale. Prima di iniziare ogni viaggio, scegli dal menu la tipologia di veicolo, la lunghezza del tragitto e la tipologia del percorso. L'applicazione geolocalizza il punto di partenza e di arrivo e fornisce un punteggio per ogni viaggio, che potrai condividere via email e sui principali social network. Per calcolare i punteggi sono state analizzate le direttive europee riguardanti le emissioni inquinanti e messe in relazione i consumi medi per tipologia di vettura, il tipo di carburante o risorsa utilizzata e il relativo standard euro. Greens è anche una web app che permette di esplorare la mappa degli utilizzi nel mondo, le informazioni sui singoli progetti di sperimentazione e le mappe sull'impatto ambientale locale. Greens è una sperimentazione nata grazie a Tetris, un progetto del Programma Operativo Nazionale Ricerca e Competitività 2007-2013.